Benvenuti, siamo con la professoressa Giussi Toto, docente ordinaria di didattica e pedagogia speciale presso l'Università di Foggia, coordinatrice del Learning Science App. Benvenuta professoressa. Buongiorno. Professoressa Toto, voi avete avviato un'indagine esplorativa sullo sviluppo delle abilità emozionali dei docenti di formazione nel contesto del TFA Sostengo. Quali sono stati i primi risultati? In realtà in questa ricerca sei coinvolto anche tu come ricercatore. Prima mi hai fatto sorridere perché mi hai chiamato capo, come se ci fosse una struttura verticistica. In realtà è molto democratica la ricerca, si parla appunto di comunità scientifiche e comunità di pratiche. Insieme a me e te c'è anche Martina Rossi che sta raccogliendo i dati sul campo. Siamo partiti, e in questo ho raccolto anche il tuo entusiasmo, dalle ricerche degli ultimi decenni dove l'attenzione si è sempre più focalizzata sul ruolo delle emozioni e sull'effetto che hanno anche nella cognizione perché a scuola è importante concentrarsi sulla dimensione cognitiva che spesso è stata messa in opposizione e quindi domini come la memoria, il linguaggio, l'attenzione erano prioritari rispetto all'ambito emotivo, come se queste due sfere fossero divise da un muro che li divideva. In realtà non è così perché le emozioni influenzano questo tipo di ambiti e dinamiche e quindi all'interno del contesto educativo in generale, quindi non soltanto la scuola, è importante conoscerle. Oggi l'educazione emozionale che poi è il centro di questo filone di ricerca ha un ruolo centrale perché da un ambito più ristretto e marginale oggi si vede come le emozioni abbiano un ruolo fondamentale proprio nei processi educativi e sono state lavorate negli ultimi anni una serie di teorie pedagogiche che proprio miravano la gestione dell'emozione non solo come benessere individuale del soggetto ma anche dell'intera comunità, classe e fuori della classe e anche per la costruzione di ambienti di apprendimento significativi quindi tutto questo ha permesso di sviluppare una serie di contenuti legati alla pedagogia che ci permettono di costruire ambienti di apprendimento e relazioni educative efficace perdonami solo una piccola digressione però io ci tengo sempre ad aggiungere quest'altro elemento anche l'inclusione risente degli effetti dell'educazione emozionale perché ci permette di costruire relazioni efficaci tra gli studenti e ambienti di apprendimento inclusivi sia lato insegnante, sia lato classe, sia lato studente con disabilità o bisogni educativi speciali e infine questo effetto che si legge anche all'esterno ha ricadute anche sul ruolo delle famiglie ci sono studi a partire dal 2021 che ci attestano appunto che anche le famiglie degli studenti con disabilità quando in una scuola è possibile appunto svolgere corsi e percorsi, attività di educazione emozionale le famiglie hanno dei risultati positivi si legge in un articolo scritto dalla Caldine e dalla professoressa Giaconi Ecco, professoressa lei adesso ci ha detto di quanto è importante la gestione delle emozioni all'interno della classe, ai gruppi classe e con i ragazzi ma per fare tutto ciò gli insegnanti devono essere formati e allora vi chiedo perché è importante che i docenti siano formati sulla valorizzazione delle emozioni in ambito educativo Allora è importante però qua dobbiamo chiarirci su cosa significa formare i docenti e quindi anche voi svolgete un ruolo principale perché abbiamo sì delle attività formalizzate all'interno dei percorsi di formazione nei 30 CFU, nei 60 CFU, nei TFA però è anche vero che la formazione dei docenti passa molto per l'informale quindi percorsi che i docenti scelgono in maniera autonoma o per il passaparola che avviene all'interno dei collegi d'istituto, del consiglio di classe quindi la formazione dei docenti si sviluppa su vari canali non è soltanto il ruolo dell'università o dei formatori che permettono lo sviluppo di un determinato tema o di una determinata competenza ma ci sono vari canali per quanto riguarda il lato università del quale io faccio parte del laboratorio che gestisco appunto anche su questa tematica l'educazione emozionale è diventata veramente una componente imprescindibile della formazione dei docenti io ad ogni inizio corso per tutti i gradi di scuola e di formazione inizio sempre con una lezione, una o due lezioni sull'educazione emozionale ti dico la verità, ho come feedback ricevuto dagli studenti molta partecipazione soprattutto dai docenti in formazione del TFA ma anche i corsisti, dei corsi di studio universitari gli studenti di psicologia o di scienze dell'educazione a volte, mi è successo proprio qualche giorno fa mi hanno raccontato la loro difficoltà addirittura a discernere, a comprendere e a descrivere emozioni come la tristezza e la rabbia a volte per loro sono sovrapposte questo in un ragazzo di vent'anni mi si descrive come una cartina attorno a sole di quella che è l'educazione a scuola se io a vent'anni a volte confondo situazioni o il mio vivere, il mio vissuto emotivo con due emozioni diverse significa che forse dobbiamo attardarci un po' di più nella formazione e nella scelta, nei programmi scolastici di questo tipo di educazione mi raccomando educazione emozionale, non sentimentale perché noi non possiamo insegnare i sentimenti ma l'alfabetizzazione emozionale o quella che oggi in un certo senso viene anche chiamata educazione relazionale e il focus sul quale dobbiamo focalizzarci tu mi hai dato molti spunti per arricchire la ricerca perché ti sei occupato anche in passato di educazione emozionale quindi spesso mi dai dei feedback anche nella costruzione di testistica e di questionario noi abbiamo fatto un'indagine esplorativa con i docenti della primaria, 201 docenti e 35 docenti in formazione dell'infanzia proprio per dimostrare che fin dall'infanzia è necessario alfabetizzare le emozioni e poi insegnare la gestione nella fascia d'età della preadolescenza e dell'adolescenza perché purtroppo gli adulti di oggi e gli stessi insegnanti a volte non sanno riconoscere le emozioni o non sanno gestirle quindi è importante insegnarlo anche a scuola dal mio punto di vista Ecco, stessa, voglio sottolineare un aspetto che lei ha detto appena adesso che è importante sin dall'infanzia imparare ad educare alle emozioni perché voglio far capire anche a chi ci ascolta che ci sono delle finestre evolutive ben precise che una volta superate sono difficili da recuperare quindi un approccio precoce permette di formare i ragazzi nel miglior modo possibile anche le proprie mappe cognitive ed emotive tra parentesi, in una società dove c'è molta digitalizzazione e c'è poco relazione la relazione è uno degli aspetti che aiuta a formare nei ragazzi nel confronto reciproco le proprie mappe emotive e allora le chiedo quali sono i benefici per il gruppo Casse di un'educazione emozionale? Eh, io le estendo la tua domanda anche se sembra utopica ora la mia risposta ma in realtà non è così i benefici non sono solo per il gruppo Casse quindi l'insegnante può gestire la classe e concentrarsi più su lezioni di contenuto sull'organizzazione didattica e quindi passa attraverso appunto una regolazione dei comportamenti all'interno della classe anche il successo formativo poi delle lezioni frontali diciamo il presupposto se non facciamo educazione emozionale e non sappiamo gestire la classe difficilmente faremo lezioni di contenuto efficaci questo è un effetto di questo tipo di educazione a scuola un effetto ancora macroscopico su quello che dovremmo puntare perché poi rende anche il ruolo dell'insegnante fondamentale nella società e credo che sia da questo debba passare il nuovo riconoscimento sociale che gli insegnanti devono avere è proprio il benessere e il vantaggio che tutta la società circostante la città, la regione la nazione intera possa beneficiare perché se noi formiamo cittadini che sanno gestire le proprie emozioni sanno comunicare con gli altri gestiscono relazioni efficaci e non è un vantaggio solo per l'insegnante che fa lezioni in classe ma è un vantaggio del quale tutta la società ne trae beneficio ciò che è incoraggiante da questa prima fase di ricerca e dell'analisi dei questionari su queste tematiche risultati che tu già conosci però a beneficio del pubblico li condividiamo li presenteremo anche in un convegno a Roma della società di pedagogia speciale i primi risultati è che finalmente gli insegnanti hanno la consapevolezza che non c'è scissione tra emozione e intelligenza tra contenuto ed emotività tra natura e scienza in un certo senso ma che le emozioni sono e la regolazione emotiva sono una competenza essenziale per il benessere degli studenti ma anche per poter svolgere un'attività didattica efficace a scuola e per sostenere anche il ruolo delle famiglie perché ricordiamoci che il ruolo genitoriale che passa sull'educazione dei figli sull'ambito educativo è in crisi perché a volte non sa gestire il patrimonio emotivo dei figli quindi il vero supporto che la scuola oggi può dare alle famiglie non è quello di sostituirsi nel ruolo educativo perché poi come sappiamo da docenti ci sono conflitti con l'agenzia delle famiglie ma il supporto che possiamo dare anche alle famiglie è un'alfabetizzazione emotiva che diventa abilità per gli studenti sulle quali le famiglie possono strutturare un discorso di insegnamento di regole e di educazione che veramente può essere efficace ecco entriamo nell'ultima domanda però parto da quello che lei ha detto prima il fatto che la scuola deve educare la persona non solo estruirla quindi nell'educare rientra anche l'alfabetizzazione emotiva tra parentesi i fatti di cronica spesso ci raccontano gli episodi nati da banali litigi che sono sfociati in fatti più o meno gravi quindi dovuti anche alla mancanza di gestire le proprie emozioni e allora le chiedo qual è il percorso per diventare consapevole delle proprie e altre emozioni e di come sfruttare queste conoscenze per creare un ambiente più equilibrato allora hai toccato una nota dolente una nota dolente anche del mio pensiero allora io spesso quando sono invitata a convegni sull'educazione emozionale sulla formazione a scuola sottolineo l'importanza perché di facciata come dire è vero che tutti riconosciamo l'importanza però poi quando accadono situazioni di bullismo violenza tra minorenni o come dire gestione delle emozioni errate fuori dal contesto della scuola sembra che scopriamo per la prima volta il problema l'educazione emozionale non riguarda solo quelle che in maniera con pregiudizi definiamo emozioni negative perché fughiamo dal dubbio non esistono emozioni positive e negative tutte le emozioni hanno una funzione e servono a qualcosa e questo dobbiamo insegnarlo la rabbia non si può cancellare il bambino non si può non arrabbiare come l'adulto la rabbia però ha una funzione ha una serie di gradazioni e una gestione che è legata ai 30 secondi di emozione di questa emozione quindi se noi comprendiamo che la rabbia è un'emozione temporanea che ci nasce in relazione ad un input e dobbiamo saperla gestire insegnare anche la gestione della rabbia così come la gioia sono dei canali fondamentali per risolvere questo tipo di problematiche anche la gioia quando è indirizzata alla ricerca di comportamenti a rischio o di elementi che sono deleterie per la salute o il benessere dell'adolescente anche la gioia non è funzionale quindi tutte le emozioni vanno insegnate riconosciute comprese perché dobbiamo saperle riconoscere ma dobbiamo gestirle la formazione passa per questi quattro elementi riconoscimento comprensione gestione e il saper appunto comunicare agli altri quello che è il nostro vissuto emotivo se riusciamo a lavorare a scuola in percorsi di formazione anche dividendoci i compiti fra i vari gradi di scuola l'infanzia e la primaria possono lavorare sul riconoscimento e sulla comprensione dell'emozione così i docenti del primo grado e secondo grado così come per i percorsi scolastici possono iniziare da bambini che hanno già un'alfabetizzazione o ragazzi e quindi insegnare la gestione delle emozioni e come poter lavorare anche sulla comunicazione per fare questo ci vuole un patto educativo nuovo tra tutti i gradi di scuola e una collaborazione che non deve essere solo all'interno della classe ma fra tutti i docenti questo ci aiuta a valorizzarci tutti a capire che il docente dell'infanzia per me che insegno alla scuola superiore o all'università è fondamentale senza quello e il lavoro che sta facendo sui numeri sulle lettere e il docente della primaria sulla lettura sulla scrittura sul calcolo è fondamentale per me che poi dovrò insegnare direttamente la spiegazione di contenuti più strutturati lo stesso vale per le emozioni ecco Colgo aveva detto l'ultima domanda ma una battuta la voglio strappare perché mi ha toccato un tasto molto molto importante a mio avviso ed è quello della collaborazione tra docenti perché quando si fa un'educazione in particolare quando si lavora sull'educazione emotiva avere un gruppo docenti che lavora insieme verso la stessa direzione permette di ottimizzare il proprio lavoro e non di vanificarlo come spesso avviene tra colleghi dove un approccio positivo un approccio negativo di fatto mandano in confusione anche l'alunno ecco questo aspetto tra i docenti una maggiore collaborazione tra docenti anche del gruppo classe non solo tra i vari gradi quanto è importante? Allora tu sai che io ho molto rispetto del lavoro dei docenti dell'infanzia e della primaria perché a volte mi chiedo me lo chiedevo anche quando insegnavo alla secondaria di primo grado o di secondo grado come facessero ad insegnare a bambini così piccoli a contare a leggere a scrivere quindi veramente hanno delle competenze straordinarie il rispetto non dipende dal grado di scuola in cui insegno quindi anche la riconoscibilità sociale anche quella professionale quindi questo va insegnato che tutti i gradi di scuola hanno la loro dignità e importanza non è scendendo nel grado di scuola che si ha meno riconoscibilità questo è un pregiudizio assurdo che non so quando è nato quando ho fatto la docente mi sono trovata a vivere con questo pregiudizio ma per me era assurdo oggi anche nei percorsi di formazione dei docenti 30CFU 60 o il TFA noi insegniamo ai futuri insegnanti a collaborare attraverso attività di gruppo per gestire proprio il rapporto con l'altro perché sì è necessario collaborare per raggiungere il successo scolastico all'interno della propria classe o della propria scuola ma è necessario dialogare anche con gli altri gradi di scuola questo a volte viene sottovalutato tanto l'anno prossimo sarò in un'altra scuola tanto avrò un'altra supplenza sarò altrove invece il nostro ruolo è fondamentale nei percorsi di formazione come dicevi anche tu nello sviluppo del ragazzo cognitivo ed emotivo e quindi il dialogo fra i gradi di scuola si deve rafforzare e questo passa proprio per il riconoscimento delle professionalità di tutti grazie per essere stato o per essere stata con noi grazie grazie grazie